. Meno. Sale a 237 morti ed oltre 300 feriti il bilancio dell'attentato di sabato a Mogadiscio. La strage è avvenuta in un quartiere centrale, davanti ad un hotel, causata dall'esplosione di un camion bomba. . Sono migliaia i somali, incluso il presidente Mohamed Abdullahi Mamed, che stanno donando il sangue necessario a curare i feriti ricoverati negli ospedali di Mogadiscio. Attentato a Mogadiscio. . Sono due i camion bomba esplosi ieri sera davanti ad un hotel a Mogadiscio. . Lo riferisce il New York Times. . L'attentato è avvenuto vicino al Ministero degli Esteri. . La strada in quel momento era molto affollata e la deflagrazione ha anche fatto crollare in parte il safari hotel, intrappolando decine di persone sotto le macerie, oltre a danneggiare diversi edifici vicino tra cui l'ambasciata del Qatar. . 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